Io ho girato soltanto con Johnny Depp, Angelina Jolie è bellissima, però era molto diva, aveva Brad Pitt quella sera quando giravamo di notte a Venezia e aveva dieci guardie del corpo e quindi c'era tutto quell'anturaggio hollywoodiano che puoi immaginare. Johnny Depp che invece è forse più divo di lei, è un ragazzo semplicissimo, non c'erano le guardie del corpo, ogni volta che davano uno stop si veniva a fumare la sigaretta con me e seduto sui gradini della chiesa giravamo di notte, è forse stato uno degli incontri più magici che ho avuto nella mia vita perché quando il regista, un grande regista ha pinto un premio Oscar, si chiama Florian Henkel von Dommelsmark, un tedesco, aveva fatto le vite degli altri, bellissimo, in questo piturist lui metteva due macchine da presa, addirittura tre macchine da presa e faceva fare tutta quella scena che facciamo lì al commissariato di seguito senza interruzioni quindi io poi parlavo in inglese che non era la mia lingua quindi avevo delle difficoltà e intanto alle prove Johnny Depp ha fatto vedere il regista cinque modi diversi di fare quella scena e tutti e cinque erano uno più bello dell'altro quindi immaginate il professionismo di questo ragazzo e poi quando io ho preso una papera perché chiaramente lui sotto la camma mi dava la botta e mi diceva quando dovevi cominciare a parlare mi ripeteva la mia battuta e io ricominciavo quindi un compagno adorabile fantastico quindi sai i grandi attori sono più grandi sono e più semplici sono io non sono grande però sono semplice e quindi abbiamo legato subito perché insomma sai Angelina ciò lì è bellissima poi è una grande diva però se la dita come tutte le e invece quell'altro era uno come noi insomma uno io faccio parte di quella scheda lì insomma mi piace mio padre era così insomma e Johnny Depp è grande per questo è grande per questo un uomo semplice un grande artista non c'ha bisogno di vestirsi da divo c'ha quella quella luce rito sua meravigliosa vero grazie a tutti grazie a tutti